Grazie a tutti. La denominazione dell'onorevole Smeriglio sono state forti, ma occorrerà aspettare l'incontro in regione alla presenza anche dell'assessore Refrigeri, per ragionare ancora di più sul concreto. Abbiamo individuato un terreno di natura ambientale, conclude l'assessore, che possa riguardare tutti i lavoratori e individuare il tipo di mansione adeguata. Il mio pensiero è sempre lo stesso, commenta Luigi Gerbino, consigliere d'opposizione. I lavoratori sono i soggetti terzi tra comune e regione e non possono pagare le spese per errori altrui. Gli ex ASU non hanno colpe e i contratti vanno onorati. Se il comune di Rieti e la regione Lazio non troveranno un accordo, inevitabilmente si rivolgeranno al giudice del lavoro e otterranno quanto dovuto, pur con i tempi della giustizia italiana che noi tutti conosciamo.